Credo che abbiamo sottoscritto un documento importante che rappresenta l'espressione della continuità di un impegno tra il Ministro Fitto e le regioni del Mezzogiorno d'Italia, le regioni dell'obiettivo convergenza per realizzare da un lato l'obiettivo della qualificazione, della velocizzazione della spesa comunitaria e dall'altro l'obiettivo di mettere in sicurezza le politiche di coesione che oggi rischiano di essere in qualche maniera delegittimate sia nazionalmente che sulla scena europea. Le politiche di coesione sono tanto più necessarie perché abbiamo visto nel corso degli anni una progressiva diminuzione delle risorse e dei trasferimenti ordinari verso il Sud. A fronte di questo dimagrimento consistente del plafond finanziario che serviva ad alimentare le politiche dello sviluppo, i fondi europei hanno progressivamente acquisito un ruolo centrale, hanno direi non rappresentato la finanza aggiuntiva ma la finanza sostitutiva. Per questo noi senza finanza, senza spesa comunitaria inciampiamo e rischiamo davvero il collasso. Siccome stiamo anche dimostrando la falsità di una campagna di successo tesa a dimostrare il tasso di cialtroneria delle classi dirigenti meridionali perché stiamo dimostrando che invece siamo in grado di raggiungere gli obiettivi di spesa, gli obiettivi di impegno e gli obiettivi di realizzazione di infrastrutture importanti per il Sud, quindi abbiamo insieme l'interesse a difendere le politiche di coesione che per il Sud Italia sono decisive e se sono decisive per il Sud Italia sono decisive per il Paese perché se non cresce il Sud non cresce l'Italia.